Sicurezza, famiglia e salute dei cittadini sono tre i temi fondamentali che ha percorso il gruppo consigliare Lega Perugia nei primi due anni di legislatura in comune, che si sono concretizzati in importanti progetti per il territorio e che sono stati presentati in una conferenza stampa nella sede di Fontiveggia in via Martiri di Lager. Una intensa attività consigliare che è partita dal basso, dicono i relatori, dall'ascolto dei cittadini incontrati direttamente nei quartieri dove vivono, per conoscere i problemi di punti di forza da vicino e portarli nelle sedi istituzionali.